Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti anche più numerosi del solito. Benvenuti alla sesta edizione di Scienze e Fantascienza, che è già la sesta. E quest'anno, come sapete, il tema è Marte. Per varie ragioni abbiamo pensato a questo argomento, intanto è un classico della fantascienza, infatti da solo regge un intero ciclo. Ci sono in programma diverse missioni importanti e poi abbiamo avuto fortuna, perché il 25 luglio è stata annunciata la scoperta, tra l'altro tutta italiana, perché è stata fatta da una missione gestita interamente, cioè la missione è dell'Agenzia Spaziale Europea, ma lo strumento che ha fatto la scoperta, Radar Marsis, è stato progettato, costruito e gestito interamente dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'INAF. Quindi avremo, tra l'altro, anche i protagonisti di questa avventura tra di noi nell'ultimo incontro. Intanto, l'incontro di oggi, cominciamo con le origini del mito di Marte, e quindi oggi, quest'anno, abbiamo scelto rispetto al passato una formula un po' diversa, invece che i soliti sei incontri ne facciamo solo quattro, però un po' più corposi. Infatti, anche dal punto di vista dei punti seminario, ogni incontro vale tre ore, quindi 0,75 e non 0,50, questo per l'insubria, ovviamente. Quello di oggi è l'incontro introduttivo in cui vediamo come è nato il mito di Marte, che è nato da una falsa scoperta, in questo caso quella dei canali marziani, che poi si è scoperto che erano illusioni ottiche, ma per un certo tempo sono stati presi molto sul serio. E di questo ci parlerà la professoressa Anna Lombardi, che è l'osservatorio di Brera, che è il luogo dove sono custodite le carte originali di Schiaparelli, ci ha suggerito come la persona più esperta di questo argomento, quindi andiamo sul sicuro. E poi vedremo come il mito suddetto è stato poi sviluppato nel corso della storia della letteratura di fantascienza, qui ci aiuterà come è tradizione Giuseppe Lippi, che è già altre volte venuto, è stato con noi, che è lo storico curatora della collana Urania Mondadori, e quindi già l'incontro di oggi è bello tosto. Poi abbiamo a novembre due incontri, sono un po' appiccicati ma abbiamo dovuto, qui sono stato un po' obbligato a scegliere la data, perché nell'incontro del 14 abbiamo qui Rosalba Bonaccorsi, che oltre ad essere una mia carissima amica è anche una grande scienziata, che lavora, è italiana, ma lavora da molti anni alla NASA, agli EMS Laboratories, che è uno dei centri più importanti, la NASA è una federazione in realtà di varie realtà, e questo, NASA EMS è uno dei più famosi in assoluto. Lei è qui in Italia, ogni tanto viene perché ha ancora la famiglia, quindi è di passaggio e ne approfittiamo, per cui abbiamo scelto il giorno in funzione della sua disponibilità. Lo stesso giorno interverrà anche in videoconferenza Julio Valdivia, presidente della Società di Astrobiologia del Perù, loro due ci parlano di un tema molto particolare, gli analoghi terrestri di Marte, cioè luoghi della Terra che sono simili a Marte e che quindi vengono usati per fare tutta una serie di esperimenti prima di mandare le missioni su Marte. In particolare poi Valdivia ci parlerà di una cosa che stanno facendo in Perù, che è molto anche divertente, però è una cosa seria, cioè stanno cercando di coltivare una super patata che possa crescere anche nel deserto, e quindi si spera poi anche su Marte, che è notoriamente molto arido. Poi il 21 avremo l'incontro su cinema e fumetto, che qui saremo ospiti, l'incontro primo ha detto, quello dell'equatore sarà in Aulamagna di Via Ravasi alle 3. Questo qui invece, un po' anticipato per esigenze pratiche, sarà alle 14.30, saremo ospiti, come già l'anno scorso, del liceo Arturo Tordi Bustarsizio, e qui parleremo insieme di cinema e fumetto, che è un esperimento che ci era già stato suggerito varie volte anche dai nostri relatori degli anni passati, per cercare di mettere anche a confronto i linguaggi di questi due tipi di comunicazione, dato che poi il nostro è un corso di scienze della comunicazione, e infine, appunto, l'incontro finale, il 5 dicembre, in Aulamagna alle 3, e questo è quasi un mini congresso, e sarà veramente un evento speciale, perché avremo una bravissima scrittrice di fantascienza, Carla Monticelli, che ha scritto un bestseller anche proprio su Marte, e che tra l'altro poi, come vi ho anche, questo per gli studenti dell'Insubria, è molto importante, terrà anche un seminario nei giorni seguenti, un laboratorio di self-publishing, perché lei pubblica i suoi libri in formati book, però oltre a spiegare come si fa, spiega anche come si vendono, che non è banale, perché bisogna scrivere bene, ma non basta. Lei ha costruito tutta una strategia molto elaborata, di autopromozione sui social media, che ha funzionato, perché pensate che solo del libro che è stato tradotto in inglese, finora ne ha tradotto uno, l'altro è stato tradotto da Amazon a proprie spese, perché ci credeva, e ha avuto ragione, ha venduto 170.000 coppie questo libro. Se pensate che in Italia l'ebook praticamente ancora non esiste, non ha mercato, vuol dire che la strategia di Carlo è veramente geniale, funziona. Vi avverto che il laboratorio è stato aperto da pochi giorni l'escrizione, ma sono già quasi chiuse, quindi se qualcuno è interessato si sbrighi, perché ci sono solo 20 posti, sono quasi esauriti. Insieme a lei ci saranno Roberto Rosè e Enrico Flammini, che sono i due responsabili scientifici della missione, che ha scoperto il lago su Marte, e ci parleranno di come l'hanno scoperto e di quali prospettive apre per la ricerca soprattutto della vita su Marte, che in effetti è l'unico luogo dove possiamo ragionevolmente sperare di trovarla almeno in tempi umani, cioè diciamo nell'arco della nostra vita, salvo progressi tecnologici a oggi imprevedibili. E infine chiuderà alla grande, Piero Benvenuti, l'attuale segretario, segretario uscente, ma comunque insomma segretario dell'International Astronomical Union, che è stato anche il primo italiano nella storia a ricoprire questa carica importantissima, che ci parlerà delle future missioni verso Marte. Detto questo, prima di dare subitissimo la parola a Anna Lombardi, ricordo solo che se c'è ancora qualcuno che avesse bisogno dell'attestato, sia studente dell'Insubria che invece professore di scuola, c'è la sopra Francesco Bertoldi che raccoglie nomi e tutti i dati necessari, rivolgetevi a lui, prima della fine dell'incontro, per favore, e infine agli studenti di Scienze e Fantascienza confermo che allora la visita al Museo di Brera, dove ci sono appunto le carte di Schiaparelli che vedremo, quindi quello che oggi ci spiega la signora Lombardi, poi lo andremo a vedere con i nostri occhi, sarà il 24 ottobre, quindi quel giorno al posto della lezione andremo là, la visita inizia alle 3, ci mettiamo poi d'accordo la prossima settimana per i dettagli, però quello che dovreste cercare di fare nel frattempo è di raccogliermi, per favore, mettete d'accordo tra i loro nomi, di tutti quelli che intendono partecipare, nome, cognome, numero di matricola, perché io devo poi mandare una settimana prima, quindi mercoledì prossimo quando ci vediamo bisogna che mi dati la lista definitiva perché devo poi mandarle in segreteria perché è obbligatorio, altrimenti non abbiamo copertura assicurativa e quindi non si può fare perché poi io sarei responsabile di qualunque danno vi capiti. Quindi mi raccomando, cercate di organizzarvi in modo da farmi avere la lista completa mercoledì prossimo. Con ciò passo immediatamente la parola ad Anna Lombardi, ringraziandola ancora tantissimo della disponibilità, così come Giuseppe, a cui seguirà immediatamente appena lei avrà finito. Avanti Anna. Se è necessario il microfono mi siedo, se no... Sì, 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 perché le ho una registrazione. Ok, va bene. Sono più statica. Bene, un attimo mi presento, mi chiamo appunto Anna Lombardi, sono una fisica, laureata in fisica all'Università di Milano e poi ho fatto il dottorato in fisica sempre però a Padova, fisica teorica, però sia per la laurea sia per il dottorato ho fatto delle tesi in storia della fisica e dell'astronomia perché è sempre stata la mia passione, sono stata anche fortunata, sul mio percorso ho incontrato persone che mi hanno aiutato a seguire questa passione, ho avuto la fortuna di lavorare 17 anni con Enrico Bellone che era direttore delle scienze e anche uno storico della scienza appunto che ha potuto aiutarmi e quindi niente, per tanti anni mi sono occupata di alcuni argomenti legati alla storia della fisica e dell'astronomia con contratti di ricerca con l'università o assegni di ricerca. Attualmente insegno a Milano, lì ci sono scientifico però appunto continuo a coltivare la mia passione con collaborazioni tutti gli anni col Planetario di Milano e poi in maniera alterna con l'Università di Milano, con l'INAF, con l'Università di Padova, eccetera. Sono contentissima che mi abbiate chiamato e quindi di poter essere qui a raccontare anche voi uno spicchio di queste mie passioni. Se per caso fossi poco chiara ovviamente fermatemi perché magari dopo è scontato qualcosa. In particolare oggi dovremmo parlare della nascita di questo mito di Marte nella fantascienza, io mi occupo appunto di come dei primi anni di ciò che rende appunto vorrei capire perché oggi noi abbiamo questo fossile culturale che è proprio la parola marziano. Cioè tante volte noi per indicare l'allieno di primo acchito diciamo proprio marziano. Questo è legato proprio alle vigende che vi racconterò oggi. Se appunto nel secondo incontro poi ci si dedicherà di più alla letteratura io mi occupo più della parte scientifica. Prima di andare proprio al nucleo della presentazione che sarà sui canali di Marte voglio però introdurvi un pochino a questo personaggio che li ha resi famosi in tutto il mondo Schiapparelli che è stato direttore dell'osservatorio di Brera a Milano. Schiapparelli nasce a Savignano in provincia di Cuneo nel 1835. Non c'è ancora l'Italia l'Italia è per lo più analfabeta Savignano un paesino in provincia una piccola cittadina in provincia di Cuneo uno potrebbe pensare in provincia sperduta in un'epoca così ricca dove la percentuale di analfabetismo era così alta oltretutto i genitori di Schiapparelli producono mattoni sono tegolai ecco ci si potrebbe fare un'impressione un po' forviante nel senso che intanto la provincia di Cuneo e quella di Biella vengono chiamate in quegli anni la Manchester d'Italia è vero che si producono mattoni ma quel produrre mattoni quel produrre tessile sta rendendo quelle province molto ricche e produce anche figlia di questa ricchezza economica anche una ricchezza culturale tanto è vero che quelle terre poi daranno i Natali ai futuri protagonisti dell'Italia Unita i più importanti ministri come Sella come Menabrea come Giolitti più tardi nascono proprio in questi luoghi e oltretutto questa famiglia di Tegolai in realtà ha diciamo ha anche delle relazioni con parenti che non producono solo mattoni ecco che tra i parenti di Schiaparelli troviamo personaggi che in quegli anni stanno dando contributi molto notevoli per esempio Giovanni Battista Schiaparelli che noi conosciamo con due P per un errore di stampa appunto all'anagrafe che forse quelli un po' più della mia età ricordano come quello della borocillina è uno dei più importanti chimici tra fine settecento inizio ottocento e appunto poi da origine a una casa farmaceutica che poi si diffonde in tutta Italia anche a livello internazionale e un cugino del nostro Schiaparelli è quell'Ernesto Schiaparelli che sarà poi direttore del museo egizio di Torino sarà capo di numerose spedizioni in Egitto e rimodernerà il museo egizio facendone un faro in tutta Europa ecco quindi che adesso non vi sto a dire altri parenti famosi ma addirittura quando avevamo studiato un po' l'arbero genealogico eravamo arrivati ad Anthony Perkins quindi proprio le cose più impensate però evidentemente non si trattava di una famiglia così comune come potrebbe sembrare di primo acchito le notizie che noi abbiamo sui primi anni di Schiaparelli ci vengono dai documenti scritti dallo stesso astronomo e che sono conservati tutti all'osservatorio di Brera si tratta di diari di lettere che ci raccontano della sua infanzia della sua giovinezza ecco fra i vari aneddoti di Schiaparelli bambino mi piace ricordare quando osserva un'eclisse con la mamma ecco sì è stupito è meravigliato di quest'eclisse però ancora di più ci dice è stupito che qualcuno nel mondo la possa prevedere in anticipo ecco scrive che da quel momento scatta in lui il desiderio di studiare in modo da poter prevedere meraviglie di questo tipo come vi dicevo questi diari ci raccontano di una vita che non si ferma a Savignano a 15 anni si recca Torino per frequentare la facoltà di ingegneria non che inizialmente volesse diventare ingegnere ma per avvicinarsi alla matematica e all'astronomia non vi era all'epoca altra via quindi fa l'ingegnere ma cerca in tutti i modi di diventare astronomo ma le porte dell'osservatorio di Torino non si aprono ecco che però questo giovane perché 15 anni iscriversi a ingegneria laurearsi a 19 e brillantemente come ha fatto Schiaparelli non è da tutti ecco questo giovane viene adocchiato da questa futura classe dirigente della futura Italia Unita già questi personaggi appunto come Sella come Benabrea erano andati all'estero a studiare come come la cultura scientifica potesse essere insegnata ai ragazzi quindi era andata a guardare cos'erano i politecnici in Germania come si insegnavano le scienze in Francia e tornati a Torino decidono di provare a mandare un giovane all'estero a formarsi per vedere poi di avere degli uomini da mettere nelle posizioni chiave in un futuro si tratta di un progetto a lungo termine e che andrà a buon fine di fatti appunto Schiaparelli parte con una borsa governativa va a Berlino studia Berlino con i più grandi matematici dell'epoca e poi va a lavorare all'osservatorio di Pulcova a San Pietroburgo nel frattempo in Italia ci sono le guerre di indipendenza Lombardia è sotto gli austriaci ma sta cercando appunto di ottenere l'indipendenza e col trattato di Villa Franca la ottiene la sto tirando troppo per le lunghe no se mai ditemelo è perché a me piace un po' capire come questo ragazzo viene scelto per diventare il direttore del più grande forse osservatorio dell'epoca perché appunto stiamo parlando di un ragazzo che ha 15 anni figlio di due costruttori di Tegole improvvisamente viene scelto mandato a Berlino ecco perché lui ecco torniamo a quello che stavo dicendo l'Italia sta combattendo per esempio appunto il trattato di Villa Franca dopo le battaglie di San Martino e Solferino quindi siamo nel 1658 e vuole affrancarsi dallo straniero non è ancora l'Italia per ora appunto si tratta di qualche cosa che nasce dal Piemonte e sta cercando di allargarsi a Maccadolio e quello che succede nella nella sfera privata di Schiaparelli è che il fratello maggiore a 20 anni di Schiaparelli Eugenio decide di andare a combattere a San Martino e Solferino a 20 anni all'epoca è ancora minorenne ma falsifica i documenti perché vuole andare a combattere va combatte questa è la battaglia decisiva per liberare la Lombardia dagli austriaci e viene ucciso ecco che il fratello di Schiaparelli diventa proprio il simbolo di questi giovani che in tutti i modi vogliono dare la propria vita per l'Italia ecco che Milano liberata dagli austriaci si trova a dover cercare nuove persone da mettere nelle posizioni chiave vengono chiamati gli austriacanti coloro che c'erano prima cioè amici degli austriaci se tu eri in una posizione di potere evidentemente eri venuto a patto con gli austriaci ecco che c'è una grande epurazione e si cercano persone che non abbiano avuto nessun contatto con il regime precedente è il momento di richiamare Schiaparelli Schiaparelli che ha avuto questa formazione all'estero che ha questo fratello che può essere una bandiera della futura Italia che è legato a Sella a Menabrea a tutti questi prossimi ministri della nascente Italia viene chiamato a Milano a Milano c'è un osservatorio che è in condizioni disastrose sia economicamente sia dal punto di vista della produzione scientifica a capo ne è Carlini che però è anzianissimo non riesce più a seguire le varie attività e Schiaparelli viene chiamato e viene nominato secondo astronomo siamo nel 1859 secondo astronomo ma nel 1860 Carlini muore ecco ecco che a Schiaparelli si aprono le porte di un posto veramente di prestigio sostenuto dallo zio che era ordinario di storia a Torino sostenuto dai suoi amici che l'avevano mandato all'estero diventa il più giovane direttore di osservatorio astronomico in Italia 27 anni e comincia a lavorare il suo modo di lavorare è molto da ingegnere lo vedete da questi suoi quaderni che magari rivedrete quando andrete all'osservatorio si tratta di una miriade ordinatissima di numeri che stanno ad indicare tutto il tipo di ricerche a cui si dedicava Schiaparelli in questo già vi anticipo che si differenzierà un po' dal filone che prenderà il resto dell'Italia in quegli anni lui sarà sempre fedele a un tipo di ricerca che si basa sulla minuziosa osservazione o di posizioni o di dettagli mentre i suoi colleghi in Italia si butteranno più sullo studio di quella che viene chiamata la spetroscopia sta per nascere l'astrofisica e questo affascinerà molto i suoi colleghi astronomi e devo dire che ci vedranno giusto perché fonderanno la prima società degli spettroscopisti la cui rivista sarà la prima rivista di astrofisica in tutto il mondo cioè la seconda arriverà solo vent'anni dopo sarà di Harvard quindi sarà un'opera validissima ma Schiaparelli sarà sempre legato invece come vedremo a un altro modo di fare astronomia pur concedendo che si tratta di un settore interessantissimo come vi dicevo si butta capofitto a studiare a cercare nuove stelle a cercare qualcosa che diciamo anche convalidi la sua nomina potete immaginare per Milano un piemontese era uno straniero si trattava di un altro stato in fondo arriva un piemontese o uno straniero a 27 anni senza aver fatto prima nient'altro e diventa il direttore dell'osservatorio ecco che lui si trova costretto a dover dimostrare che ha qualcosa più degli altri e questa dimostrazione passa senz'altro per la scoperta del pianetino Esperia la ricerca di pianetini era uno dei settori diciamo più battuti all'epoca e senz'altro in Italia il primo pianetino era stato scoperto da Secchi nel 1801 scusate ho detto da Secchi ma è Piazzi ho sbagliato il cognome è stato scoperto da Piazzi quindi un italiano nel 1801 e i massimi cercatori di pianetini erano proprio in Italia vedete che cambiano i numeri 66 cancellato diventa 67 sarà poi catalogato col numero di 69 sarà il 69 pianetino perché talmente sono in tanti alla ricerca di pianetini che ogni giorno ogni settimana se ne scopre uno quindi bisogna cambiare l'ordine della scoperta questa scoperta è abbastanza importante cioè si tratta di un pianetino del sistema solare oltre diciamo ai pianeti più noti in quelli appunto dal 1801 ci si rende conto che esiste una fascia una zona del nostro sistema solare che è abitata da una notevole quantità appunto piano piano si va scoprendo di piccoli pianetini ecco che in quegli anni ovviamente fa scalpore che improvvisamente si scoprano tutti questi pianeti quando fino a poco prima si pensava di aver colmato ogni possibile lacuna con la scoperta di Plutone torniamo a Schiaparelli con questa scoperta Schiaparelli è in grado di chiedere un telescopio perché qual è il problema di Schiaparelli che questo lavoro l'ha fatto con degli strumenti pessimi quindi l'ha costretto a lavorare con strumenti non di valore questo che vedete è che si trova nella cupola di Brera io spero che vi sia data l'occasione di vederlo ecco è bellissimo fra l'altro a me fa impazzire il fatto che praticamente adesso non so se se faccio così voi vedete la freccina ecco vedete questa questa è una finestra che si apre a cerniera e cosa succede che quando voi dovete osservare un'altra parte del cielo girate la cupola per mettere la finestra nel spicchio di cielo che volete osservare voi e quindi se sarà possibile vedrete il meccanismo qui lo vedete ecco si tratta di questa di questa ruota di metallo che fa girare tutta la cupola ovviamente non il pavimento se no sarebbe un po' difficile ma tutta la parte superiore a questa cerniera può ruotare così permettendovi di osservare il cielo questo strumento è il primo strumento scientifico comprato dall'Italia Unita l'Italia nasce nel 1861 questo strumento è comprato nel 1861 ancora un onore ma ancora un po' un onere per Schiapparelli ancora una volta dovrà dimostrare di meritarselo e per cercare di dimostrare di meritarselo ecco io non so io ho pensato di vedere questo video poi ecco forse non parte ma non è che sia estremamente essenziale però almeno ci rilassiamo anche un attimo parte ci mette un po' di tempo si tratta della seconda scoperta importante di Schiapparelli che è relativa a cosa siano le stelle cadenti c'era anche l'audio ma forse non si sente beh così lo posso lo posso spiegare abbiamo detto abbiamo deciso che l'audio non si sente comunque quello che succede è che le stelle cadenti che a noi sembra ovvio che siano detriti che la nostra terra va ad incrociare ecco quella che vedete nel video è una cometa che gira intorno al sole questa cometa ruotando intorno al sole lascia dei detriti dietro di sé e quando la terra nella sua orbita incrocia questi detriti questi detriti bruciano per attrito nell'atmosfera e quello che osserviamo sono le stelle cadenti ecco a noi sembra una cosa ovvissima ovvissima penso che non si dica molto ovvia ma in realtà alla fine dell'ottocento non si era assolutamente d'accordo sulla natura delle stelle cadenti addirittura si pensava che si trattasse di vulcani lunari che davano origine a questi effetti quindi lapilli che provenivano addirittura dalla luna per altri erano fenomeni astronomici Schiaparelli invece dimostrò con le osservazioni e del calcolo si trattava di calcoli davvero precisi e complessi di cui lui si avvantaggiava in cui lui si avvantaggiava della sua formazione di alta matematica e dimostrò appunto che ad esempio le lacrime di San Lorenzo quelle stelle che osserviamo attorno al 10 di agosto non sono altro che il detrito del passaggio di una cometa ecco che questa scoperta che appunto lui avvalla con questi calcoli che nessuno più osa mettere in discussione si tratta proprio lo mette finalmente nell'Olimpo degli astronomi cioè lo rende degno finalmente di questi strumenti di questa posizione perché come vi dicevo si tratta di un fenomeno che fino a quel momento non aveva trovata nessuna buona spiegazione addirittura vince numerosissimi premi di accademie questo è il premio Lalande dell'Accademia delle Scienze di Parigi ma numerosissimi premi e soprattutto può chiedere un altro telescopio ancora più grande forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare perché hanno fatto l'inaugurazione del suo restauro l'anno scorso al Museo della Scienza e della Tecnica prima l'avevano portato a Merate ecco perché è così impensabile chiedere un altro telescopio perché in quegli anni la gente non ha da mangiare cioè l'Italia è veramente povera si stanno facendo le tasse sul pane le tasse sulla farina e questi strumenti costano tanto le lenti vengono fatte arrivare dalla Germania eppure vedete questa lettera che vedete qui sulla destra è un comunicato con cui Stella comunica caro amico a Schiapparelli i risultati della votazione favorevoli 192 contrare 37 si pensa che la scienza possa essere uno strumento per far progredire la nazione è incredibile ma è così ecco cosa intanto stava facendo Schiapparelli e qua ci avviciniamo diciamo a quello che ci interessa di più Schiapparelli in una notte in cui il cielo non è abbastanza buono per cercare le stelle quelle stelle in particolare in questo periodo si stava appassionando alla ricerca di stelle doppie vi dico solo che ne catalogò 11.000 non conosciute prima per dire la costanza che aveva nell'osservazione ecco una sera che il cielo non era abbastanza buono per questo genere di osservazione decide di provare a puntare il suo telescopio verso Marte era il 23 agosto del 77 e nel suo diario leggiamo non era da principio mia intenzione consacrare a Marte una serie continuata e regolare di osservazioni pensava di provare solo a vedere cosa succedeva guardando con quei magnifici strumenti un pianeta questi sono i primi disegni di Marte eseguiti da Schiapparelli e li confronta con le mappe più famose dell'epoca la differenza non è poi molta queste sono mappe pubblicate di chi si occupava solo di Marte queste sono mappe un po' più antiche queste sono mappe più recenti più vicine all'epoca in cui ci troviamo il 77 ecco la mappa di Marte che farà Schiapparelli però sarà molto diversa da queste perché Schiapparelli a questo punto dice se il mio primo disegno è uguale alle mappe di altri che per anni hanno continuato questo lavoro forse io posso riuscire a fare una mappa migliore persino questa era la miglior mappa a disposizione dell'epoca la mappa di Proctor era ancora poco ricca di particolari e aveva anche un'altra caratteristica che inizio a segnalarvi i nomi che aveva dato Proctor e che giravano all'epoca per la cartografia di Marte erano un po' per addetti ai lavori abbiamo la terra di Copernico il continente di Secchi si trattava tutti i nomi legati a grandi astronomi vediamo qui uno dei primi schizzi fatti da Schiaparelli con un nuovo metodo che lo intende adottare per creare le mappe di Marte cioè lui vuole fare aerografia aerografia dal nome di Marte da Ares quindi questa aerografia consisterebbe nell'adottare i metodi della topografia su Marte scegliere punti ben precisi che sono facili da osservare con un reticolato che permetta di fermare le coordinate sistemare questi punti e poi tra un punto e l'altro fissato con le coordinate aggiungere i particolari che lui riesce a cogliere anche per un attimo ad occhio nudo ovviamente non è così facile come sembra bisogna aspettare quel momento in cui l'osservazione di Marte è favorevole cosa che magari richiede un anno e mezzo di tempo bisogna osservare una lotte in cui il cielo è favorevole ma a questo punto il nostro Schiaparelli ha deciso si occuperà di fare una carta di Marte con una precisione che finora lui aveva riservato solo alla caccia alle stelle un'altra caratteristica delle mappe anche qui una delle prime mappe che disegna Schiaparelli non saranno più nomi di astronomi saranno nomi che lui attinge alla mitologia o che si rifanno a nomi della geografia terrestre qua vedete ad esempio in questa mappa lui chiama questo diciamo protuberanza la chiama Italia Martirreno Mar Adriatico Ellade capite che questi nomi di mare Gioce richiamano il fatto che forse Marte è un'altra terra e un altro fattore importante per questa immedesimazione di Marte con una nuova terra perché in fondo anche la luna aveva i mari ma nessuno in quell'epoca si sognava di pensare che in quei mari ci fosse l'acqua l'altra caratteristica così importante è il colore azzurro che Schiaparelli sceglie per la prima carta che pubblicherà nel 1878 l'anno dopo cioè si tratta in realtà di una serie di mappe ma avranno tutte queste caratteristiche le mappe azzurre in realtà ci dice lo stesso Schiaparelli lui è dal tonico quindi fa un po' fatica a vedere di che colore effettivamente sia Marte tanto più ci dice che i colori virano tutto verso il verde fra l'altro se andiamo a guardare le carte di Marte di quegli anni troviamo i colori più disparati dall'arancio al marrone al verde questo perché gli studi adesso di ottica fisiologica ci dicono che un occhio affaticato che continua ad osservare un colore produce poi anche per quel fenomeno ottico che si chiama contrasto simultaneo anche il colore proprio esattamente opposto quindi se guardiamo l'arancione vediamo anche il verde dopo un po' cioè si fa fatica veramente a capire che colore si sta guardando tanto più se si è dal tonici ecco che questa scelta dell'azzurro che fa Schiaparelli ancora più avvicina Marte all'idea della terra quindi un metodo di cartografia terrestre nomi o terrestri o di mitologia popolare e un colore per i tra virgolette mari che sia azzurro attenzione Schiaparelli dice guardate che io chiamo mari quelli che mi sembrano essere avere una profondità di riversa rispetto a quelle che chiamo terre chiamo fiumi quelle diciamo quei dettagli allungati e diciamo sono nomi pratici non hanno un corrispettivo fisico assolutamente non mi sento di dire che ci sia l'acqua su Marte anche se in quegli anni i primi studi spettrografici sembravano indicare la presenza di vapore e acqua su Marte il più grande cartografo di Marte la più famosa carta di Marte era uscita in teoria con grande batage pubblicitario pur se tra gli addetti al lavoro l'anno prima 1877 Nathaniel Green un nome che non ci dice più molto si trattava di un pittore professionista che si era appassionata all'astronomia e aveva deciso di dedicare i suoi sforzi a disegnare una mappa di Marte per 16 anni raccoglie tutte le mappe dei colleghi osserva con strumenti che si procura per suo conto fra l'altro aveva anche fondato la British Astronomical Association proprio ci credeva diciamo nella sua passione per l'astronomia e finalmente nel 77 dopo come 16 anni di lavoro pubblica questa carta ancora il continente di Secchi di Herschel la vecchia terminologia e vedete pochi particolari questa del 77 Green viene a conoscenza del fatto che c'è questo ragazzo a Brera Milano che sta facendo delle carte di Marte molto più ricche di dettagli in effetti questa sarà la carta che uscirà nel 78 vedete torno indietro vedete quanti dettagli in più provate a pensare questo Nathaniel Green gli viene diciamo così per essere aulici un coccolone ecco ecco che forse avrete sentito parlare di una brutta traduzione del termine canali in realtà abbiamo trovato all'osservatorio di Brera delle lettere che ci raccontano una storia un po' diversa allora Green si fa mandare da Schiaparelli queste sue mappe e scrive a Schiaparelli si Schiaparelli chiama alcuni di questi fiumi li chiama canali riprendendo il termine che già aveva usato Secchi per queste protuberanze lineari di Marte quindi è vero ha usato il termine canali ma non ha usato il termine canals in inglese Schiaparelli sarà Green per la prima volta in una lettera a dire io ho certamente fallito a vedere quella quantità quel numero di sottili canali scuri che io vedo nelle tue mappe cioè lui non crede che Schiaparelli davvero veda quei canali Schiaparelli cosa gli risponde mi spiace per te sei stato sfortunato cioè è diciamo un po' quella piglio un po' dei giovani ecco non è molto diplomatico Green se la prende alla al meeting diciamo al convegno della Royal Astronomical Society che si tiene subito dopo nel 78 decide di andare con le lettere di Schiaparelli con le mappe di Schiaparelli e in quella sede dice ma se queste linee ci fossero su Marte Schiaparelli avrebbe trovato dei canals su Marte e adesso dobbiamo dire perché questa parola canals è così diversa da canale perché canals in inglese non vuole dire canale ma vuol dire canale artificiale canals proprio in quell'anno è il canale di Panama che si vuole costruire proprio in quegli anni canals è il canale di Suez cioè canals è il frutto della massima espressione dell'ingegneria in quegli anni che permette agli esseri pensanti di migliorare la propria vita mentre il canale come la manica il canale naturale che in italiano si dice nello stesso modo in inglese per l'inglese ha un proprio termine che è channel ecco quindi che non è una cattiva traduzione è proprio una presa in giro da parte di Green rispetto alla mappa di Schiaparelli secondo Green Schiaparelli si è un po' inventato questi particolari che pensa di aver visto questa diciamo provocazione di Green ha talmente presa sul suo pubblico di astronomi che esce dall'ambito ristretto degli astronomi attraverso prima Nature poi il New York Times arriva anche diciamo esce dalle mure accademiche e arriva anche al pubblico più vasto intanto poi torneremo su questo aspetto il nostro Schiaparelli prosegue il suo lavoro pian piano arriva anche il secondo telescopio quindi vede sempre meglio la superficie di Marte e vediamo ad esempio da questo ingrandimento come mano a mano questa si tratta di una mappa precedente che lui aggiusta perché quello che osserva di anno in anno vedete come continua a correggere le sue osservazioni lui osserva che i canali si spostano e che soprattutto raddoppiano quel fenomeno che lui chiama la geminazione dei canali attenzione ci dice io non so dare una ragione della natura di questi canali né su che cosa essi siano si tratta di vegetazione si tratta di acqua si tratta di roccia né sul fatto che siano o costruiti o qualcosa di naturale io l'unica cosa che intendo fare è proseguire a osservare lui davvero tante volte scriverà questa cosa adesso non mi sembra il caso di mettermi a leggere mi ero anche trascritta un po' dei sue frasi però diciamo il succo è questo l'astronomo non deve interpretare quello che vede ma deve cercare sempre ovviamente sfruttando una tecnologia che sempre più andrà migliorando di fornire i dati sempre più precisi e quindi vedere e segnalare e pubblicare quello che lui osserva questo è un altro diario di Schiaparelli questa invece è la mappa pubblicata diciamo di questa stessa osservazione e anche qui è possibile vedere questi due canali affiancati che in un primo tempo Schiaparelli aveva visto come un ultimo canale come un unico canale e opposizione dopo opposizione dal 77 si passa al 79 si passa all'81 ecco che gli sembra essersi sdoppiati geminazione da gemelli quindi questo raddoppio di alcuni canali lui ad esempio segnala il raddoppio e la geminazione del Nilo e presto in America osservano la geminazione del Gange c'è proprio un diffondersi anche nel mondo di astronomi che cercano di segnalare cosa vedono e cosa non vedono su Marte un altro fenomeno importante per Schiaparelli è quello dei poli i poli a volte sembrano ricchi di ghiaccio a volte invece questo ghiaccio sembra scomparire anche per Schiaparelli è un problema a spiegare quale sia la periodicità come sia possibile questo scioglimento dei ghiacci così rapido però appunto anche in questo caso ci dice non posso far altro che prendere atto di quello che vedo e continuamente segnarmelo e poi dare pubblicazione di tutti quelli che sono i miei dati come vi dicevo piano piano questo dibattito per cui questo signor Schiaparelli in Italia avrebbe visto che anche su Marte ci sono degli ingegneri che costruiscono canali esce dalle mure accademiche e le pubblicazioni fatte da Schiaparelli con tutti i suoi dati e tutte le sue mappe vengono tradotte un po' in tutto il mondo qua vi ho messo qualche edizione vedete i timbri sono tutti dell'osservatorio quindi potrete vedere queste sono tutte edizioni che trovate anche nelle biblioteche in tedesco in francese ma davvero in tutto il mondo si diffondono queste carte queste osservazioni questi scritti di Schiaparelli oltretutto Schiaparelli non solo vuole divulgare in tutto il mondo per gli astronomi quello che ha visto ma si occupa anche della divulgazione per chi non è astronomo per esempio questo libro le più belle pagine di astronomia popolare che sarà pubblicato postumo avrà una larghissima diffusione viene considerato appunto un libro stupendo per chi si avvicina all'astronomia un libro particolare è quello che prende il titolo della vita sul pianeta Marte anche qui in realtà inizialmente molti di questi libri escono originariamente come su riviste a puntate e poi vengono raccolti e pubblicati tutti insieme alla fine ecco questo libro è un po' diverso perché in questo libro Schiaparelli ci racconta qualcosa di nuovo ci dice innanzitutto che con tutti questi canali Marte probabilmente è il paradiso degli idraulici perché ovviamente tutti questi tubi questi che fioriscono che vengono aggiunti tolti sdoppiati e poi ci dice passando a un ordine più elevato di idee forse si potrebbe anche andare a capire qual è l'ordinamento politico che devono avere i marziani perché se devono realizzare delle opere così grandi perché questi canali io li riesco a vedere dalla terra quindi devono essere delle dighe immense con cui convogliare quest'acqua che si scioglie così velocemente dai poli e poi svanisce per tutto il resto dell'anno evidentemente devono associarsi devono avere una politica che renda possibile lavorare insieme ecco che secondo Schiaparelli in questo libro Marte potrebbe anche essere il paradiso dei socialisti ecco bisogna dire che però questo libro per Schiaparelli è uno scherzo come vedremo fra poco i marziani l'esistenza dei marziani di questi canali non è uno scherzo per tutti gli astronomi ma per Schiaparelli rimane una possibile ipotesi perché potrebbe potrebbe esserci la vita non sta a me dirlo ma è un'ipotesi questo libro in cui lui si addentra a raccontare dei marziani porta sul frontespizio la frase semeli in anno liciti insanire quindi la frase che si usa per il carnevale sì una volta all'anno è possibile diciamo dar di matto e poi si conclude in questa maniera di tutto questo caro lettore lascio a te ogni ulteriore considerazione io scendo dall'ippogrifo l'ippogrifo è quel cavallo alato della fantasia che ci può portare lontano se vuoi puoi continuare la volata ma Schiaparelli non dirà mai nelle sue opere io credo che esista la vita io sono convinto che esista la vita se non in questo in queste ipotesi fantasiose non sta lui decidere se esiste o non esiste lui sta solo registrare quello che vede ai suoi cannocchiali ai suoi telescopi scusate ecco c'è un problema che non tutti gli astronomi sono così razionali sono così io dico ingegnere perché sono fisica quindi le persone così razionali così dico sono un po' ingegnere però alcuni astronomi invece prendono molto sul serio queste ipotesi di Marte tra tutti io ricordo Parsifal Lowell si tratta di un miliardario americano una famiglia ricchissima che ha fondato l'università di Harvard e legge il libro di Frammarion dedicato a Marte si appassiona si fa costruire un intero osservatorio in Arizona una zona tersissima per avere il sing migliore del mondo si procura telescopi giganteschi per guardare Marte e vede i canali e lui non lascia ad altri decidere se è abitato o no lui decide che Marte è sicuramente abitato anche se per esempio leggiamo in questo articolo dice parlare di esseri marziani non vuol dire necessariamente parlare di uomini marziani però la vita su Marte secondo lui è sicuramente una realtà se questo è l'Atlantic Montley a breve siamo nel 1895 a breve gli articoli passano ad essere presenti sul New York Times e su altre rivisse con una diffusione enorme ecco che per questo che vi dico che sia scrittori di fantascienza ma questo sicuramente poi ne parlerà l'intervento successivo sia gli scrittori di fantascienza vengono affascinati da questa novità ma molti scienziati molti cittadini sono convinti che esista una vita su Marte questa che è appunto questa guerra dei mondi su cui sono stati fatti poi anche dei film anche l'ultimo degli anni 90 anche era abbastanza recente e che ha avuto questo enorme successo non è in quell'epoca un caso isolato io qua ho messo questo romanzo dove si immagina che Thomas Edison l'inventore decida di inventare anche un motore che possa arrivare su Marte ma davvero questa idea della possibilità della vita su Marte è molto diffusa questa che vedete è una pagina della Domenica del Corriere si tratta di una rivista proprio diffusissima come potrebbe adesso non mi viene in mente un analogo moderno però insomma perché adesso sono tutti inserti però vabbè ma c'è una rivista diffusissima adesso non così faccio un po' fatica a trovare una rivista diffusissima beh comunque no non mi viene nessun esempio perché non potrei dire che non me l'avrebbero messo su Instagram perché su Instagram ci possiamo mettere tutti però avrebbe avuto sicuramente tantissimi follower questo sì ecco qua è rappresentato all'inizio del Novecento sicuramente non solo per i suoi meriti astronomici ma per l'eco che ha avuto la sua ricerca su Marte e siamo all'inizio del Novecento qua siamo nel 1906 lo stesso Lowell di prima ma questa volta su New York Times non ci può essere alcun dubbio che esseri viventi abitino il nostro mondo vicino il nostro vicino di pianeta questi articoli appunto non lasciano dubbi e vanno avanti per decenni in Italia però c'è un altro grande studioso che è Vincenzo Cerulli si tratta di un fisico che si occupa di astronomia e che comincia a studiare Marte e però si comincia a porre delle domande forse questa visione dei canali di Marte non è che un effetto ottico è la sua teoria ottica o teoria dell'integrazione ottica adesso non posso muovermi perché c'è il ma ecco se qualcuno di voi si mettesse davanti alla gamba di questo tavolo adesso non mi viene tanto l'esempio se io adesso mi mettessi lì davanti e vi chiedessi quante gambe al tavolo voi direste quattro ma magari non le avete viste ma il vostro cervello ricostruisce quest'immagine perché è la più ovvia ecco la teoria prende un po' spunto da quest'idea cioè il nostro cervello cerca di unire delle macchie che fa fatica a vedere ricostruendole unendo i puntini in modo da ricostruire delle forme che invece conosce è un po' quello che succede questo vedete il bacio sulla luna non a caso un'incisione di fine ottocento questa è una foto della luna ecco tirando un po' le ombre diciamo a piacere si può vedere un bacio tra due innamorati dopodiché se uno si ha in mente questo quadro vi assicuro che quando guarda la luna si convince di vederlo e dice come è fatto a non osservarlo prima e cosa pensa Schiaparelli di questa teoria che va a disfare tutto questo mito di Marte Schiaparelli dice ma probabilmente ha ragione e fa questo esempio probabilmente ci dice Schiaparelli ci troviamo in un momento di passaggio della tecnologia e aveva ragione si era raggiunto un limite fisiologico dell'occhio l'osservazione occhio nudo era arrivata al suo limite adesso io non so se ho fatto le proporzioni giuste se le ho fatte giuste quelle vi dovrebbe sembrare un quadratino grigio ditemi di sì tanto ok se io ingrandisco il quadratino qualcuno di voi comincerà a dire ma secondo me sono delle righe nere qualcuno che ci vede peggio dirà no no è un quadratino grigio ancora adesso tutti dicono no sono delle righe nere le vedo anch'io forse mi faccio anche già l'idea di che cosa sia sicuramente vedo del nero e del bianco se ingrandisco ancora appunto uno dice ma guarda che lì sono delle scritte io vedo le lettere e l'altro dice no io le lettere non le vedo magari mi sta turlupinando e sono dei quadratini e poi adesso quando vedremo bene che cos'è non sarà un libro scritto ingrandisco ancora e tutti siamo d'accordo ok è un libro scritto ecco questo è un esempio proprio fatto dallo stesso Schiaparelli che con umiltà dice forse siamo in una di quelle fasi dove stiamo passando da decidere che Marte non ha dettagli perché la tecnologia non ci permette di vedere dettagli a un momento in cui una nuova tecnologia mi darà i dettagli esatti allora qualcuno vede di più qualcuno vede di meno ma siamo in un momento in cui questo dubbio è dato da un passaggio di tecnologia questa nuova tecnologia sarà poi la fotografia infatti sia Cerulli sia lo stesso Schiaparelli chiedono a Lawel di dotarsi di un'apparecchiatura fotografica e Lawel lo fa ma Lawel è talmente deciso scusate volevo tornare prima un attimo indietro scusate che mi sono dimenticata volevo dire ancora una cosa prima di arrivare alle fotografie che questa nonostante Schiaparelli abbia detto no probabilmente ha ragione Cerulli probabilmente io sto vedendo qualcosa che va oltre io sto cercando di usare l'occhio in una maniera che forzando la sua natura quindi andando oltre quello che è il potere risolutivo dell'occhio e aveva ragione nonostante questo in America ancora questo è un articolo sul New York Times del 1916 non si spegne la convinzione estrema che esistano i canali di Marte e che siano prodotti da esseri viventi che li costruiscono e poi li smontano di stagione in stagione e l'autore di questo articolo questo Ken Ferter devo dirvi che non sono sicura che la pronuncia sia corretta è il capo redattore scientifico per decenni del New York Times quindi voglio dire non è uno scrittore di fantascienza o un amico di Lowell eppure in questo articolo risponde a un astronomo che sostiene che lui non vede i canali e gli dice certo che non li vedi perché il tuo cannocchiale è più piccolo di quello di Lowell e perché tu non sei in Arizona dove l'aria è estremamente più rarefatta e migliore e quindi tu non lo vedi perché non sei capace di usare gli strumenti astronomici quindi con una veramente quasi arroganza siamo nel 1916 si risponde a chi comincia timidamente a dire ma forse questi canali non ci sono torniamo a quelle che vi dicevo essere le fotografie ecco purtroppo nel 1907 questa è la prima stampa di fotografie di Marte che Schiaparelli proprio scongiura Lowell e Lowell gli la manda potete vederla anche questa a Brera vi ho messo di fianco un evidenziatore per avere un'idea di come siano piccoli questi Marte ecco non è possibile assolutamente usare queste foto per decidere se su Marte ci sono i canali perché la foto è ancora a una risoluzione ancora peggiore a parte che qui si aprirebbe un altro capitolo per cui la foto a inizio novecento ancora si fa fatica ad accettare come strumento di scienza perché la foto era qualcosa di artistico era qualcosa con cui fare un ritratto ma non era non aveva una validità scientifica proprio nascerà la foto scientifica anche grazie all'astronomia però ancora per Marte non è risolutiva in realtà sarà poi il Mariner 4 la sonda che ci manderà le prime bellissime foto di Marte foto da cui si evince che i canali effettivamente non ci sono queste sono foto attuali meravigliose e qua di nuovo dobbiamo tornare come sui nostri passi i canali ci sono cioè ci sono delle strutture effettivamente queste sono foto molto recenti che danno da pensare appunto però si dimostra facilmente che non si potevano vedere con gli strumenti di Schiapparelli cioè i canali di Schiapparelli non ci sono ci sono altre strutture che noi riusciamo a vedere solo però con quella nuova tecnologia immaginata solo da Schiapparelli finisco proprio per finire la storia di questo astronomo Schiapparelli per tutta la vita fu un riferimento vi ho detto che non si appassionò all'astrofisica non aveva neanche la strumentazione adatta che invece interessò in quegli anni molti astronomi tra cui Tacchini Secchi gli italiani veramente sia con gli spettri stellari prima ma soprattutto con lo spettro del sole fecero grandissime cose ma qui vedete che i suoi colleghi sempre per esempio gli mandano una cartolina da Terra Nova dove si erano recati a osservare un passaggio di Venere sul sole cioè lo tengono sempre comunque come un riferimento un riferimento schiaparelli fu per tantissime persone sia le più semplici a cui non mancava mai di scrivere abbiamo pacchi e pacchi di lettere di brutte di lettere di risposta a persone anche le più semplici che gli chiedevano chiarimenti di astronomia sia poi anche invece riferimento per quello che riguarda invece l'ambiente accademico per cui apparteneva le più prestigiose società scientifiche l'accademia dell'incei l'istituto lombardo ecco questo un schizzo che gli è stato fatto mentre era all'istituto con lombardo da un collega addirittura nel 1889 viene fatto senatore senatore d'Italia ma lui veramente si oppone a questa cosa c'è una lettera bellissima che anche in questo caso non so neanche io se leggere o no però in pratica in questa lettera Schiaparelli dice ma l'Italia si è tolta il pane di bocca per darmi uno strumento astronomico e io dovrei passare le giornate andando avanti indietro da Roma a fare qualcosa che non so fare a questo punto lasciatemi il tempo di usare questo strumento cosa che invece so fare quindi è veramente una lettera bellissima alla fine di questa lettera lui scrive the right man in the right place cioè l'uomo giusto al posto giusto lasciatemi al mio telescopio e prendete un politico invece che vada a Roma qui adesso non mi addentro altre sue la stessa passione con cui osservò Marte poi l'ho prese per l'osservazione di Mercurio di Venere e anche in questo caso seppe cambiare proprio la concezione che di quei pianeti si aveva all'epoca e oltretutto il suo sogno era anche quello di ricostruire la storia dell'astronomia e come in altri settori non gli bastava andare a leggere quello che altri avevano scritto ma iniziò a studiare il sanscrito il greco le varie lingue antiche per poter leggere le fonti originali con cui scrivere la sua storia dell'astronomia se studiò tanti settori anche lui riconobbe che Marte sicuramente era stato il pianeta che più l'aveva affascinato che più aveva fatto di lui schiapparelli dice in questa lettera recentemente ha studiato alcune osservazioni babilonese di Marte e si tratta della nascita dell'astronomia quindi Marte come nascita dell'astronomia e ci dice davvero un pianeta prezioso pensiamo che Plero impazzendo su Marte ha scoperto le leggi dell'astronomia nell'astronomia nuova cioè l'orbita ellittica nasce proprio per cercare di svelare quei cappi strani che compiva Marte nel cielo e dice oggi Marte forse ci vuole svelare il mistero della vita su un altro mondo quindi vede Marte come un filo rosso che ha condotto l'astronomia attraverso i secoli e poi conclude dicendo il Marte terrestre cioè la guerra che invece bisogna abolire questa frase che qui vediamo così concisa poi sotto altre forme viene ripresa più volte cioè come il telescopio al posto del cannone possa promettere all'uomo un destino molto migliore una curiosità che forse vedrete una delle ultime cose che possiamo leggere sui suoi diari è questo elenco compilato veramente nel gennaio del 1900 quindi dieci anni prima della morte si tratta dell'elenco delle cose che deve fare prima di morire vedete come era organizzato la prima la cancella vi posso dire che la settima memoria su Marte sull'opposizione del 1890 viene pubblicata quindi poteva cancellare anche questa e poi mano a mano ci sono le altre libri che intendeva scrivere quando muore l'illustrazione italiana lascia a lui la copertina si tratta anche in questo caso di una cosa eccezionale per un astronomo pensiamo oggi che di pochi astronomi italiani sapremmo dire il nome e vi lascio chiudo appunto il mio intervento con questa sua frase si amava descriversi in questa maniera memoria poca genio nessuno ma molta pazienza e infinita curiosità di saper tutto questo è pressa poco il mio ritratto intellettuale ok lascio il posto grazie è veramente è stata una cosa molto bella anche tutto l'inquadramento storico adesso si si tu Giuseppe le tue cose sono già le hai già messe la tua presentazione o la devi ancora caricare ok intanto se c'è qualche domanda per la signora Lombardi intanto scusate mi ero dimenticato di dire una cosa cercate di farlo ordinatamente in effetti insieme a nome e cognome e dati dovreste dare ciascuno l'email perché se no non posso spedirvi il certificato mi sono dimenticato di dirlo andate sempre da uno alla volta in modo ordinato per favore intanto se c'è qualche domanda se c'è qualche domanda per la signora Lombardi poi passiamo la parola a Giuseppe Lippi e sì possiamo avere un attimo il microfono dovete parlare nel microfono perché la registrazione viene fatta come sempre dall'interno del sistema quindi anche se avete una voce possente se non parlate nel microfono le vostre parole storiche non saranno registrate e non passeranno alla storia vai Alberto e l'altra cosa in che anni sono le Cerulli inizia a parlare siamo prima del novecento perché questa seconda domanda era legata al fatto che praticamente nel mondo microscopico quindi della biologia si pongono effettivamente gli stessi problemi 1896 per Cerulli è 1896 mentre per le altre lingue devo dire la verità che non sono preparata lo farò dovrei magari adesso il mio prossimo pensiero sarà questo non sono preparata anche perché tutti gli articoli che ho trovato sono del mondo anglosassone perché comunque inizialmente Pickering che prende al balzo quest'idea dei canals e inizia a studiarli appunto Pickering che poi andrà a lavorare a Harvard poi Lawell ma sono per lo più astronomi o inglesi americani e quindi non ho pensato di vedere questa cosa anche in altri ambiti tutti gli articoli che ho trovato sono del mondo anglosassone ecco quello che appunto mi preme che secondo me non è stato come solitamente si dice come sostiene Wikipedia un errore di traduzione ma secondo me c'è stato proprio un'intenzione di voler attribuire una cosa che non era nei piani assolutamente perché proprio Schiapparelli dice esplicitamente che i termini mare fiume canale hanno il semplice significato di poter dare sinteticamente l'idea della forma che ha un oggetto ma che non c'è nessuno lo dice proprio nella prima memoria per esteso qualcun altro Ezio ceva cari anche io una curiosità siccome l'ha nominato prima come vede il rapporto tra Schiapparelli e Flammarion di cui ha parlato ha citato prima appunto il suo nome quando parlava di Lowell appunto del fatto che ha letto il libro di Flammarion perché io un pochino l'ho seguito questo personaggio di Flammarion perché ha questa grande importanza per la divulgazione della scienza esatto e mi interessa molto scoprire appunto che Schiapparelli poi aveva anche lui un po' guardato questi aspetti il libro che lei ha mostrato alla fine anche se postumo le più belle pagine dell'astronomia popolare sembra far riferimento all'astronomia popolare di Flammarion Flammarion che tra l'altro scrive in francese poi viene tradotto in tante lingue e mi sembra in effetti che in francese ci sia anche lì solo il cano indicando canali in termini unico un po' come l'italiano mi pare di ricordare però però volevo chiederle perché in effetti mi sembra che Flammarion sia una figura un po' a metà strada fra Schiapparelli e Lowell cioè in fin dei conti scrive un libro in cui parla di condizioni di abitabilità di Marte quello del 92 di cui appunto si nutre Lowell come lo vede anche nei rapporti con Schiapparelli che rapporti ci sono stati come lo giudica il rapporto se c'è stato fra i due no allora io non non ho studiato il rapporto fra i due sicuramente il nome di Flammarion ricorre cioè lo conosceva e sicuramente ne aveva letto però a me non è capitato di incontrare dei rapporti diretti tra i due ecco però appunto vi dico si tratta di una quantità di documenti incredibili per cui eventualmente si potrebbe fare una ricerca tutte le lettere sono catalogate a me non è capitato di incontrarmi perché invece Flammarion ne parla nei suoi libri di Schiapparelli sì sì ma sono sicura che adesso io non mi ricordo dove ma sono sicura che anche Schiapparelli parla di Flammarion che ne ha conoscenza e tutto però non so se loro due si sono mai scritti ecco cioè sicuramente lo conosceva ecco ok sicuramente era anche un modello credo anche per lui come dice lei questo titolo non è casuale ecco bene ci sono altre domande passiamo a Giuseppe Lippi scusate quanto di me effettivamente questo vale per chi non ha ancora l'email insubria chi ha l'email dell'insubria ovviamente gli lo manda quello non c'è bisogno che lo vada a dare però se uno non è ancora immatricolato e gli serve gli è il suo personale così glielo mando mentre per i docenti ci pensiamo poi diamo quindi la parola a Giuseppe Lippi per il mito di Marte nella storia della letteratura di Fantascienza grazie a tutti forse a un certo punto era venuta fuori una foto di copertina di Fantascienza lasciare fissa quella magari ah va bene d'accordo va bene allora cominciamo con la parte Fantascientifica allora come avete sentito prima lo stesso Schiaparelli dice ai suoi lettori ai lettori del suo libro sulla vita su Marte io mi fermo qui ma se voi volete andare avanti con i voli di fantasia fate pure sono gli anni 70 del XIX secolo e sembra che il suo invito a volare alto di fantasia venga subito raccolto viene raccolto innanzitutto in alcuni dei paesi più allora più progrediti del mondo a cominciare dall'Inghilterra anche gli Stati Uniti ma in modo veramente serio soprattutto dall'Inghilterra dove alla fine del XIX secolo negli anni 90 fine 80 e 90 del XIX secolo cominciano a uscire regolarmente importanti romanzi dove la base scientifica è scarsa ma la base speculativa è invece formidabile sono i romanzi di Wells Herbert George Wells che tira fuori come da un cappello veramente magico fatato quasi si stenta a credere alla sequenza storie di appunto invasione da Marte storie di invisibilità quindi lui immagina non solo che Marte sia abitato ma sia abitato appunto da esseri bellicosi che come l'Inghilterra coloniale invadono la terra come se fosse un'India o un'Africa cose di questo e la invadono con macchine da guerra terrificanti non hanno questo un romanzo di questo genere ha veramente un contenuto innovativo dal punto di vista letterario ma abbiamo sentito si potrebbe dire anche scientifico notevole in fondo se Marte fosse stato abitato da esseri progrediti questi avrebbero potuto benissimo avere la sciagurata idea di venire a molestare noi e dopo qualche decennio noi loro perché prima si è vista passare sullo schermo la copertina di questo curioso romanzo di Garrett Service su Edison Thomas Edison che va alla conquista di Marte in realtà quello è proprio un seguito della guerra dei mondi e cosa succede? cioè dopo che i marziani hanno mortalmente offeso la terra invadendola e semidistruggendola allora gli americani passano al contrattacco e capitanati da Edison vanno su Marte a dargliele di santa ragione tutto questo per quanto oggi ci possa fare sorridere però rappresenta innanzitutto una base della futura letteratura fantascientifica anche cinema per questo ma rappresenta uno sforzo immaginativo molto notevole noi oggi siamo arci abituati a soggetti di questo tipo ma pensate quando viene fuori alla fine del XIX secolo Wells inventa questo tra l'altro anche la fine del suo romanzo è plausibile scientificamente la cosa poco plausibile è come mai i marziani non ci avessero pensato ma la loro rovina è causata dalle infezioni che portano i batteri terrestri cioè tu non è che puoi andare su un altro pianeta aspettandoti di non metterti nemmeno una mascherina di quelle che si comprano in farmacia e cavartela tant'è vero noi lo sappiamo oggi quando gli astronauti terrestri sono tornati dalla luna hanno passato un periodo di quarantena perché non si sapeva se sulla luna potevano esserci dei microorganismi anaerobici naturalmente che è passibile di diffondere infezioni contagi anche sulla terra ma i marziani di Wells a questo non hanno pensato però ci ha pensato Wells e quindi quando loro i marziani sono all'apice del trionfo e hanno completamente sconfitto gli eserciti inglesi europei in generale le più piccole creature uso quale parola di Wells che Dio ha creato cioè i batteri ne avranno ragione e loro muoiono di malattie varie dentro i loro temibili vascelli che somigliano un po' a dei tripodi dice Wells le loro macchine da guerra non si muovono più all'interno ci sono i cadaveri infettati e fatti a pezzi dei marziani ora Wells inventa questo ma poi inventa anche cose che per quanto inverosimili dal punto di vista scientifico più inverosimili della guerra scatenata da Marte hanno però sempre un rigore non so come dire un rigore logico intellettuale e comunque una potenza narrativa che ci lascia stupiti ancora oggi lui scrive nell'uomo invisibile di uno scienziato che sperimenta su se stesso un siero per renderlo completamente trasparente e quindi invisibile noi sappiamo oggi che questa è più fantasia che assolutamente scienza ma il ritratto di questo scienziato che è anche un uomo estremamente arrogante e solitario è stupendo perché è proprio il ritratto dell'individuo che non vuole conciliarsi con la natura col mondo è in guerra con tutto e naturalmente sopporterà pagherà le spese di questo atteggiamento poi Wells inventa tra pianti atroci tra uomini e animali nel tentativo di far diventare degli animali esseri umani o perlomeno molto simili a esseri umani questo viene ottenuto a forza di operazioni di interventi chirurgici terrificanti su un'isola di proprietà di uno scienziato veramente maligno che è questo dottor Moreau l'isola del dottor Moreau è il romanzo poi inventa forse l'invenzione più grande e più bella di Wells sulla quale ancora adesso i fisici ti battono è quella della macchina del tempo cioè a dire si può andare indietro o avanti nel tempo nel breve romanzo di Wells non si può andare indietro ma si può andare avanti e anche molto avanti nel tempo il viaggiatore come lui chiama il protagonista della storia è l'uomo che ha messo a punto questa macchina sensazionale si spingerà gradualmente più avanti nel futuro prima incontrerà una civiltà terrestre fratturata tra due tipi di popolazione estremamente diversi tra loro i raffinatissimi eloi che vivono in superficie della terra sia pure in delle riserve molto protette molto difese e che hanno una civiltà raffinata interessi musicali artistici eccetera ma insidiati continuamente da esseri che si sono rifugiati nel sottosuolo che però ogni tanto ne emergono per anche lì farli a pezzi che sono i bestiali morlock esseri semi animaleschi semi scimmieschi che in qualche modo ci ricordano i nostri stessi istinti quelli stessi degli eroi probabilmente che sono gli istinti repressi bestiali ma che comunque covano nel inconscio umano alla fine il viaggiatore si spinge ancora più lontano e arriva a 800 mila anni nel futuro che fosse allora a Wells il romanzo mi pare che sia del 1895 se non sbaglio e a quell'epoca gli sembrava una distanza di tempo molto grande tra 800 mila anni e lì assiste alla fine del mondo non c'è più nessuna forma di vita la luna si è avvicinata alla terra il mare ha delle onde estremamente pigre e lui incontra un'ultima specie di medusa vaga forma vivente ma si capisce che ormai la vita è completamente scomparsa dalla terra 800 mila anni sono un lasso di tempo ragguardevole per noi esseri umani ma su scala biologica non sono poi veramente un periodo tale da poter esaurire la storia della terra può darsi che tra 800 mila anni la storia della terra si sarà esaurita la vita sulla terra voglio dire però sicuramente non sarà nel modo tranquillo che vede Wells se questo avverrà entro 800 mila anni noi dovremmo trovarci davanti a un pianeta di nuovo forse più simile a quello delle origini che non alla visione malinconica alla quale assiste il protagonista di Wells cioè probabilmente la terra avrebbe di nuovo un'atmosfera completamente diversa magari piogge acide distruttive vulcani in eruzione e così via invece Wells immagina questo mondo esausto sfinito in cui tutto si esaurisce la vita in primo luogo l'idea un'idea come quella della macchina del tempo alla quale anche qui noi siamo molto abituati oggi è diventato uno dei paradossi preferiti anche nei comuni discorsi e ripeto ci sono dei fisici oggi che sostengono che a loro avviso non è impossibile l'idea di viaggiare nel tempo però ecco io personalmente non sono così addentro a queste questioni da potervi dire se hanno veramente un fondamento fisico o no sembra di sì che lo abbiano ma la cosa importante non è questa è avere immaginato una concezione di alto valore speculativo cioè di aver fatto un'ipotesi fino ad allora inaudita sarà questa la base della migliore fantascienza del novecento cioè attenersi a quelli che sono i principi della fisica soprattutto ma insomma delle scienze come sono conosciute da noi però violandoli se si devono violare violandoli almeno in modo come dire intelligente in modo paradossale cioè io non mando nello spazio un'astronave dai cui ugelli esce il fumo perché nello spazio questo non avrebbe molto senso non si vedrebbe neanche però non dico che la macchina del tempo sia qua dietro l'angolo però posso immaginare una superciviltà che abbia pure la macchina del tempo insomma l'importante è la bontà del concetto speculativo dell'invenzione si potrebbe dire ma non è soltanto invenzione perché l'ippogrifo abbiamo visto prima è una bella invenzione bellissima invenzione ma la macchina del tempo è più dell'ippogrifo è un salto concettuale in avanti questa espressione salto concettuale in inglese conceptual breakthrough è usata anche dagli scienziati quando si fa una scoperta o si postula una teoria rivoluzionaria sia un salto concettuale la fantascienza magari avesse fatto soltanto dei salti concettuali alcuni li ha fatti ne abbiamo appena detti alcuni molto più spesso soprattutto quando ha cominciato ad avere successo commerciale popolare ed è passata dall'editoria letteraria seria all'editoria più più commerciale appunto e poi anche al cinema poi addirittura ai fumetti si è accontentata spesso di ricamare su invenzioni che erano già state fatte ma per dirne un'altra un altro salto concettuale notevole è quello che porterà a postulare i primi automi intelligenti quelli che noi chiamiamo robot non che non si fosse mai pensato a un automa prima di allora il settecento per dire è un secolo pieno di automi alcuni dei quali vengono anche realizzati non soltanto immaginari e a costruirli non sono dei maghi degli alchimisti neanche per la verità degli scienziati puri ma sono degli ingegneri degli artigiani dei tecnici molto addentro alle tecniche di animazione di questi loro esseri meccanici nella fantascienza del novecento si inventano si presume che si potranno avere dei veri e propri uomini artificiali si chiamano robot perché così li chiama in cieco il commediografo Karel Chapek in una commedia degli anni venti del novecento che si intitola Rur Rur sono le iniziali di una ditta la robot universali Rossum e questi robot sono in realtà una specie di operai specializzati meccanici costretti a fare un lavoro evidentemente alienante e specializzati in quello e solo quello dai robot la parola conquista l'immaginazione nel mondo anglosassone americano soprattutto robot diventa il sinonimo il nuovo sinonimo di automa e lo scrittore che più amerà trattare questo tema in modo appunto rigoroso e a volte paradossale è Isaac Asimov il quale si domanderà va bene i robot ma dovranno essere fabbricati se veramente si vorranno diffondere nel mondo dovranno essere collocati in una posizione precisa nella società non dovranno combinare pasticci né dovranno tantomeno nuocere agli esseri umani questo perché nei primi racconti di fantascienza del novecento i robot erano spesso visti come dei golem come degli esseri che tendevano a ribellarsi all'umanità continuamente cosa in fondo abbastanza sì appassionante dal punto di vista drammatico ma ingenua perché noi vediamo bene che dalle macchine sofisticate soprattutto nel campo cibernetico dalle macchine ciberneticamente sofisticate il pericolo non è tanto quello che si ribellino come pure è stato postulato fino ai tempi del grande film di Kubrick 2001 ma il pericolo è che ci condizionino a un tipo di vita che ormai non è più a misura d'uomo ma invece a misura di programma cibernetico tuttavia Asimov da bravo scrittore di fantascienza bravissimo anzi si pone il problema negli anni quaranta del novecento di come fare in modo che questi robot possano essere accettati dalla comunità umana dalla società americana in primo luogo e allora inventa tre leggi poi diventeranno quattro ma comunque sostanzialmente il procedimento è quello tre leggi della robotica che dicono che praticamente un robot in alcun modo può danneggiare un essere umano in alcun modo può disobbedire a un essere umano e non può fare niente che contravvenga a queste leggi tuttavia in ogni racconto di robot di Isaac Asimov si inventa una scappatoia per queste per eludere queste leggi più o meno drammaticamente e lui ci mostra come però ecco l'importanza di questi racconti sta nella logica paradossale che li sostiene e ancora oggi sono godibilissimi racconti del genere fantascienza cibernetica al contrario oggi siamo abituati a racconti di fantascienza cibernetica che parlano di tutt'altro i robot sono ormai diventati delle creature non solo inoffensive ma quasi buffe come per esempio quelli del ciclo di guerre stellari e invece parla oggi di appunto grandi sistemi informatici parla del controllo sociale che avviene tramite la rete o comunque tramite i grandi progressi della cibernetica e dell'informatica che sono stati fatti negli ultimi 30-40 anni progressi che la fantascienza aveva subodorato quando si dice che la fantascienza è però non ha previsto internet questo è falso perché esiste almeno un racconto probabilmente di più ma è stato dissepolto almeno un racconto che invece parlava di internet non chiamandola così e di computer non chiamandoli così ma chiamandoli logici ed è il racconto di Murray Leinster un logico di nome Joe in cui appunto internet è descritta nel 1949 come noi la conosciamo oggi ho divagato un po' per illustrare questo concetto di quanto siano importanti di quanto siano stati importanti nella fantascienza del novecento le idee le idee però io voglio dire che con questo non le trovate soltanto ma le idee più ingegnose i salti in avanti concettuali però il nostro argomento è Marte e ricordiamo allora a questo punto che la fantascienza lo vediamo già in Wells appunto che oltre a descrivere l'invasione marziana ha anche scritto di un viaggio sulla luna i primi uomini sulla luna del 1901 in cui è l'avventura fuori della terra la cosa interessante e le mete a lungo rimangono circoltrite al sistema solare perché anche se oggi nei film e nei racconti si parla come niente di altre galassie lontane lontane o vicine vicine ma insomma comunque tutto questo è molto incredibile anche per un lettore di fantascienza serio diciamo così perché le distanze cosmiche sono tali che noi non possiamo attualmente neppure immaginare di poter raggiungere non solo altre galassie ma anche i confini stessi della nostra galassia se non con espedienti del tutto fantastici ma anche questi a volte coccolati persino da alcuni fisici come l'iperspazio cioè una scorciatoia che vi fa passare attraverso lo spazio invece che realmente dentro lo spazio o i più moderni wormholes cioè gallerie scavate nel tessuto dello spazio-tempo che permetterebbero di arrivare quasi istantaneamente in ogni punto della nostra galassia e quindi via via anche fuori di essa ma ripeto nella fantascienza migliore il concetto di galassie addirittura ulteriori rispetto al nostro universo locale non non so cioè viene rispettato il confine non si osa facilmente avventurarsi oltre se non ecco nei fumetti è un altro discorso nel cinema è un altro discorso quindi a lungo la fantascienza rimane legata all'esplorazione dello spazio vicino a noi e segnatamente del sistema solare certo in modo fantasioso perché le avventure da Wells in poi le avventure che vengono ricamate intorno a Marte che rimane il più popolare dei pianeti del sistema solare per quanto attiene alle visite dalla Terra o anche su Venere persino su Mercurio sono stati scritti degli appassionanti racconti di fantascienza quando non si sapeva che tanto su Venere quanto su Mercurio le condizioni sono così proibitive che sarebbe difficile persino pensare di scendervi non parliamo poi dei pianeti giganti da Giove in poi Marte tutto sommato presenta le condizioni meno proibitive nel sistema solare è veramente potremmo dire un cugino della Terra fratello no perché gli mancano alcune caratteristiche essenziali per ora dico per ora sia pur rapprividendo perché tutti sapete che esistono questi piani per terraformare Marte cioè per a poco a poco con l'ingegneria planetaria una cosa che ancora non esiste ma che sulla carta viene già ipotizzata rendere un mondo potenzialmente ostile in un mondo a misura della Terra abitabile dai terrestri quindi un Marte che perde i suoi deserti e diventa verde che ha l'acqua corrente che serve e che ha un'atmosfera probabilmente più ricca di quella rarefatta che sappiamo ha adesso però ecco Marte non presenta pur avendo queste mancanze non presenta le abissali difficoltà di Venere che è un posto paragonabile veramente all'inferno di Dante da quello che noi sappiamo oggi con temperature elevate con piogge corrosive micidiali con venti micidiali per cui io credo che esseri umani su Venere difficilmente potrebbero sbarcare e su Mercurio stessa cosa perché per via della vicinanza al sole delle temperature estreme che regnano su Mercurio però Marte invece no Marte invece non ha non ha granché di estremo certo a basse temperature certo è ricoperto di deserti ma appunto c'è stato appena rivelato che l'acqua liquida su Marte esiste quindi come si sospettava quindi è un pianeta che ha sempre affascinato gli autori di fantascienza parliamo dei più avveduti io qui vorrei veramente mettere una lapide una pietra tombale sugli scrittori di fantascienza del primo novecento che dicevano parlavano di Marte tanto per parlare di un mondo esotico c'è per esempio l'autore dei romanzi di Tarzan Edgar Rice Burroughs che ha scritto anche un lungo ciclo dei lunghi cicli interplanetari uno ambientato su Venere va bene ma uno ambientato su Marte che è abitato che ha delle razze di esseri antropomorfi multicolori della razza più affine a noi per modo di dire gli uomini rossi c'è la caratteristica che è una razza ovipara quindi la principessa di Marte di cui poi John Carter il protagonista si innamorerà è in realtà una donna che fa le uova quindi questo io metterei una pietra tombale su questo in questo senso non che voglio disprezzare questa produzione avventurosa e tutto sommato priva della minima intenzione di risultare credibile o attendibile ma questa produzione è stata letta per decenni devo dire soprattutto negli Stati Uniti dove era apparsa originariamente su riviste di poco spessore in Italia ad esempio sono stati tradotti questi romanzi di Borgs ma poi anche rapidamente mi pare almeno più o meno rapidamente dimenticati perché in fondo il lettore europeo è più vicino alla fantascienza di tipo inglese che resta speculativa che resta vicina alle ipotesi della scienza che non a quella americana dove può succedere di tutto come vediamo da quell'ottimo esempio che è il fumetto di Superman dove le leggi della fisica vengono infrante a ogni pagina esistono dei volumi dedicati a questo argomento e le storie di Marte di Edgar Svorg sono un po' così ma dimenticando queste e altre scorribande marziane perché esiste un di lui io credo che a fare una bibliografia solo fantascientifica di Marte nel novecento verrebbe fuori un libro di centinaia di pagine perché i titoli saranno migliaia pubblicati poi nelle varie collane di fantascienza ecco in Italia quando viene lanciato il primo mensile di fantascienza nella primavera del 1952 scienza fantastica la scelta del nome un po' infelice perché sembra è anzi uno simoro cioè questa è una contraddizione in termini la scienza non può essere fantastica può essere teorica ipotetica può avere le sue teorie non ancora verificate ma invece loro traducono science fiction con scienza fantastica che non è esattamente quello che vuol dire perché l'inglese science fiction vuol dire banalmente narrativa scientifica e questa scienza fantastica comincia a ospitare racconti in cui Marte è visto come il pianeta che negli anni 50 ancora si pensava potesse essere potenzialmente abitato potenzialmente colonizzabile dagli esseri umani ma la vera oggi si direbbe il vero sdoganamento di Marte solo che io cerco di evitare questa espressione e qui lo dico proprio perché magari come invito anche a voi a utilizzarla il meno possibile comunque il vero sdoganamento del povero Marte avviene qualche mese più tardi nei romanzi di Urania che escono nell'ottobre del 52 il cui primo titolo è le sabbie di Marte di Arthur Clark oggi è 10 ottobre sì quindi dal 52 al 2018 sono 66 anni oggi Urania compie 66 anni grazie ricordo e nel 10 ottobre del 52 appare la traduzione italiana di queste sabbie di Marte di Arthur Clark Clark è un ottimo esempio di autore inglese che non fa voli pindarici fini a se stessi così incredibili lui parla di un Marte molto verosimile per quell'epoca ripeto gli anni 50 ma d'altra parte Clark è anche un membro della British della società interplanetaria britannica ecco è uno studioso di valore anche scientifico sua sarà l'idea del satellite geostazionario che messo in orbita sincrona con la Terra permette di rilancio permetterà in futuro rispetto al 52 di rilanciare i segnali delle telecomunicazioni da un emisfero all'altro quindi è una persona seria i suoi romanti e i suoi racconti sono estremamente interessanti dal punto di vista tecnologico scientifico e anche speculativo ripeto le sabbie di Marte è la realistica storia per allora di un'esplorazione colonizzazione di Marte con la sorpresa finale che non vi anticipo ma che veramente apre uno spiraglio sulle promesse di Marte per quanto riguarda la vita Clark è anche l'autore di una delle più famose storie della fantascienza moderna quella che ha fatto da base al film di Kubrick 2001 di Sia nello spazio film che come chi l'ha visto ricorderà non contiene assordità scientifiche maggiori ce n'è qualcuna c'è qualche piccolo inciampo ma niente di colossale anzi il film è estremamente realistico di Marte in quel film non si parla strano era uno dei pianeti preferiti da Clark ma si parla molto della Luna è sulla Luna che verranno trovate come già sulla Terra preistorica le tracce di un'intelligenza extraterrestre mi piace questa cosa perché mentre ma ecco nei due pianeti nei due corpi celesti perché la Luna è un pianeta ufficialmente non lo è ma nei due corpi celesti più cari anche alla produzione fantascientifica la Luna e Marte la Luna da secoli e Marte più recentemente alcuni preferiscono la Luna perché è un mondo disperatamente disperatamente ostile Clark aveva scritto nel 60 un bel romanzo lunare che descrive il naufragio nella polvere sottilissima della Luna di un transatlantico turistico che attraversa la faccia visibile della Luna questo quindi lui era molto interessato alla Luna e nel suo racconto La Sentinella immagina quello che poi vediamo nel film cioè appunto di un artifatto alieno che viene ritrovato sul nostro satellite naturale ma bypassa Marte tranne appunto nel romanzo che abbiamo ricordato e in altri racconti che ha scritto ma nella sua produzione successiva bypassa Marte perché sembra rendersi conto col passare dei decenni che Marte è veramente quel luogo arido che noi stiamo contemplando adesso da vicino e anzi adesso c'è questa sua rivalutazione come pianeta potenzialmente terraformabile eccetera ma Clark si ferma un po' prima e nel suo romanzo Le sabbie di Marte le città che sono state costruite lassù da noi sono però sotto cupola cioè bisogna vivere comunque in un ambiente artificiale per poter respirare per poter avere acqua per poter avere energia e tutto il resto in 2001 Marte quindi è allegramente superato e il segnale che parte dalla Luna un segnale radio molto potente che si diffonde dal monolito lunare verso lo spazio punta in realtà verso Giove verso Saturno secondo una prima versione del progetto ma poi ai tecnici di Kubrick sembrò difficile pensate voi questo visualizzare Saturno in modo convincente non c'era tempo per studiare una tecnica fotografica tale da ricostruire in studio plausibili visioni di Saturno e allora si dirottò su Giove nel film noi vediamo che alla fine l'astronave Discovery si sbarca insomma si avventura nel sistema di Giove e delle sue lune Marte però non ha perso nulla del suo fascino per gli scrittori di fantascienza perché a partire dagli anni Ottanta si ha una ripresa della furia marziana della febbre marziana della nostalgia di Marte il mal di Marte insomma ecco e questo mal di Marte rivive in una serie di ponderosi romanzi di uno scrittore americano che si chiama Kim Stanley Robinson che gli ha dedicato una trilogia complessissima dalla quale si potrebbe trarre forse più ancora che un film sia pur lungo una serie tv perché proprio sono tre romanzi massicci tutti e tre fatti in modo tale da descrivere sì l'esplorazione e la colonizzazione graduale di Marte e il suo terraformi cioè l'operazione di terraformare di rendere simile al nostro quel lontano pianeta ma soprattutto sono raccontate le vicende delle persone che vengono coinvolte in questo grande progetto in questo grande esperimento i romanzi si intitolano il rosso di Marte il blu di Marte e mi pare a il verde di Marte il verde di Marte è quando il pianeta effettivamente fiorisce come io mi auguro che non fiorisca mai perché ma sono discorsi egoistici perché essendo io legato personalmente insomma ha all'immagine di ciò che contraddice l'arroganza dell'umanità di espandersi ovunque poi buon pro le faccia se si vuole espandere certo non so io a poterlo impedire pensa già di cambiare la faccia di questo mondo a me l'idea di cambiare la faccia di un mondo sembra ripugnante però ripeto è un'opinione probabilmente anche di minoranza per cui questa trilogia ha appassionato molti lettori proprio per anche l'insistenza sui caratteri dei protagonisti sulle loro vicende personali insomma c'è molto melodramma oltre che un'accurata sfondo scientifico per cui immagino che se ne potrebbe cavare davvero una serie tv da prima serata e dopo questi sono venuti fuori altri romanzi appunto ancora marziani per cui poi siccome la fantascienza a un certo punto parlo di quella qui di quella diciamo così più commerciale cioè quella che si scrive per essere venduta non per tenere il romanzo nel cassetto per piacere ai lettori e allora anche al cinema abbiamo visto un fiorire di film marziani fin dagli anni ottanta come il secondo me abominevole Capricorn One dico abominevole non dal punto di vista artistico che pure mi pare mediocre ma dal punto di vista della tesi che sostiene di un finto viaggio su Marte sapete che c'è una parte dell'umanità non indifferente che si rifiuta di credere alla verità del primo allunaggio nel 69 e se per questo di quelli che seguirono fino al 72 Capricorn One era appunto un film che sfruttava questo tipo di paranoia mostrando un viaggio su Marte che in realtà era girato in studio per propaganda per fini di propaganda poi ci sono stati film più recenti come quello tratto dal best seller appunto Il Marziano poi c'è stato un film di Carpenter che non era male ambientato su Marte di nuovo fantastico e abitato da creature malevole e mostruose insomma Marte non ha smesso di essere un protagonista dell'immaginazione fantascientifica e io credo che oggi al solo dire questo nome Marte molti di voi si sentiranno come in famiglia fondo quello che il fantascientista potrebbe deplorare per eccesso di purismo cioè appunto è diventata una cosa familiare e magari in futuro diventerà un luogo dove gireranno dei reality di qualche tipo appunto dei reality ma siccome un tempo alla fantascienza interessava l'irreality ecco che nasce questo sospetto di una possibile banalizzazione di Marte certo non per colpa sua subirebbe il contagio della appunto della mancanza di rispetto dei suoi vicini terrestri e quindi è probabile che se andranno avanti i megaprogetti poi bisogna vedere però perché si dice terraformare Marte ma i costi sono astronomici esattamente come le distanze quindi prima che si trovino delle forme di energia assolutamente innovative eccetera io andrei cauto nel fare pronostici sulla terraformazione di Marte però Marte che cosa ci insegna questo nostro veramente adesso mi lascio trasportare dal sentimento dico fratello celeste ci insegna che fin dalle origini dell'astronomia e probabilmente anche prima quando un'astronomia non c'era ma tu potevi però guardare occhio nudo come noi abbiamo potuto fare recentemente Marte vicino alla terra rosso un occhio rosso nel cielo Marte è rappresentato non come la Luna certamente a causa della maggiore lontananza ma è rappresentato nei secoli come un faro un faro che però anziché riportarci a casa ci portava fuori altrove e credo che questo fantascienza o non fantascienza sia uno stimolo eccezionale in fondo quello che la fantascienza può sperare di avere in comune nei casi migliori con le discipline scientifiche vere e proprie e con quelle artistiche e con le manifestazioni artistiche genuine è proprio questo questo richiamo ad andare fuori di noi stessi ma non per interessi non per interessi soltanto egoistici non so uno potrebbe inventarsi su Marte troveremo il petrolio no ma per interessi speculativi per interessi altamente scientifici filosofici o artistici so che questo può far sorridere ma personalmente questo è quello che mi auguro e questo è quello che la fantascienza non meno che la scienza vera e propria ci ha fatto sperare per decenni e decenni io avrei concluso questa parte se poi avete delle curiosità possiamo andare avanti bene allora vediamo intanto grazie a Giuseppe per questo intervento e devo dire che anche l'ultima cosa che lui dice mi pare molto importante perché tra l'altro io proprio la settimana scorsa ero stato al congresso mondiale di astronautica e anche io sono stato colpito da questo fatto che lì si parla molto di Marte anche se ormai sono 15 anni che ci vado e ogni volta si dice fra 30 anni andremo su Marte ne sono passati 15 si continua a dire fra 30 anni quindi forse effettivamente non è così presto però quello che mi ha colpito è che rispetto a un po' di tempo fa si insiste molto di più a cercare di giustificare le missioni spaziali con appunto interessi economici che poi a parte l'utilizzo dello spazio vicino per le telecomunicazioni e per altri tipi di monitoraggio della Terra eccetera però si fa veramente fatica anche solo a immaginare si propone il turismo spaziale attività commerciali sulla Luna voglio vedere come faranno a renderle competitive con quelle sulla Terra fondamentalmente ci può essere attività mineraria sì va bene ci sono minerari anche sulla Luna sugli esteroli su Marte ma i costi ovviamente sono molto maggiori di quelli che ci sarebbero sulla Terra la terraformazione non ne parliamo a parte poi i costi le difficoltà tecniche perché poi a me capita io intanto ho provato a chiedere a qualcuno di quelli che ne parlava ma come risolvete il problema che poi Marte non ha abbastanza gravità per tenersela all'atmosfera dopo che l'avete prodotta tra l'altro prima che siamo riusciti a produrre una sufficienza ce ne vuole eccetera alla fine viene sempre fuori che tutto sommato anche l'idea la terraformazione è sempre sotto vetro cioè parziale di terraformare tutto il pianeta buonanotte quindi alla fine effettivamente credo che ha ragione lui che la vera giustificazione dei viaggi spaziali e soprattutto così in questo spirito di avventura del desiderio di conoscere che poi porta sempre anche delle benefici economici e tecnologici di ogni tipo ma seguiremo la storia anche passata sono sempre imprevisti cioè sono le ricadute tecnologiche che nascono dal cercare di vincere sfide complicate la luna ci ha portato un sacco di progressi in questo senso dai computer fino addirittura ai materassi adesso sono diventati questi materassi memory che usiamo tutti li avevano inventati inizialmente per era una tecnologia della NASA però non erano previsti prima mentre tutte queste cose che sembrano più dei tentativi di giustificare qualcosa perché magari non si crede più che anche in questo momento anche di crisi questa idea venga accettata se accetti facilmente l'idea di andare in un posto solo perché solo perché ci interessa farlo per un punto spirito d'avventura eccetera io invece penso che questa sia l'unica giustificazione vera e che alla fin fine per quanto possa magari essere vero che in questo momento sia più difficile accettare l'idea di spendere tanti soldi per una cosa che almeno immediatamente non serve comunque mi sembra che sia una giustificazione più sensata quindi in ogni caso più accettabile di queste altre abbastanza strampalate quindi forse non è poi così di minoranza io credo che ci sia anche parlando di giustificazioni c'è sempre quella giustificazione per cui prima o poi la terra non ce la farà più a sopportarci l'umanità è più che raddoppiata negli ultimi 50 anni e quindi prima o poi il pianeta cioè il sistema insomma planetario della terra andrà al collasso più o meno per colpa nostra ma penso che il problema non si risolve facilmente andando a invadere appunto Marte ma magari ecco un tema di cui non si parla più se voi ci fate caso quelli più anziani ricorderanno che fino anche soltanto a 20-30 anni fa si parlava molto di controllo delle nascite perché oggi dire la parola controllo delle nascite interviene il Papa cioè vi manda una bolla subito cioè è assurdo noi siamo oggi sulla terra più di 7 miliardi quando io sono nato nel lontano 1953 non arrivavamo a 3 miliardi quindi nell'arco della mia vita altri 4 miliardi di bocche si sono aggiunte alla mia già abbastanza capace per 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 appunto nutrirsi per mangiare e sarebbe niente nutrirsi consumare energia consumare acqua consumare risorse preziose e adesso che abbiamo l'elettronica tutti quanti in tasca anche lì esigenza irrinunciabile ma che produce i suoi guasti ambientali e i suoi costi energetici eccetera quindi l'idea che tutto questo si potrà affrontare andando portando la nostra specie fuori oltre a essere secondo me leggermente iettatoria per quanto riguarda gli altri pianeti ma è anche è anche un po' ridicola io non credo che siamo affatto in quella ho un amico il quale a loro obietta ancora un'altra cosa vabbè allora trasferiamoci in enormi stazioni spaziali che orbitano più o meno intorno alla terra e viviamo lì e sai che vita cioè io la vedo veramente come una vitaccia una vita agra che non augura a nessuno ma come si dirà ma tu che hai bazzicato fantascienza per tutta la vita sei così poco fantascientifico in questo no io credo di essere più fantascientifico nel senso che mi rendo conto che ormai il vero semmai cioè semmai il vero pericolo è proprio l'alveare umano con la sua crescente necessità con la sua fame crescente con la sua necessità continua di consumare energia e risorse questo su questo bisognerebbe riflettere più che su andare a terraformare Marte anche su questo sono in gran parte d'accordo perché effettivamente tanto per cominciare per risolvere in quel modo i nostri problemi bisognerebbe portare su Marte non solo qualcuno ma metà della popolazione umana il che è molto più complicato che risolvere i nostri problemi qua e poi comunque dopo un po' di tempo te li ritrovi sia qua che là se non li hai risolti quindi cioè non è quello il problema sicuramente i nostri problemi dobbiamo risolverceli qui e da questo punto di vista credo che di nuovo che il fatto dell'esplorazione dello spazio invece possa servire in un altro senso cioè proprio nel senso perché qui più che ancora che la questione dell'aumento della popolazione che quella è una tendenza che c'è ancora ma che col tempo dovrebbe secondo anche le statistiche dovrebbe poi fermarsi ma il vero problema è l'aumento del consumo continuo delle risorse naturali che dipende non solo e non tanto dall'aumento della popolazione ma da uno stile di vita eccessivamente squilibrato dove si continua spesso anche a produrre nuove cose tecnologiche che non servono realmente in questo senso io personalmente credo che in parte questo dipende anche dal fatto che si come dire che ci annoiamo insomma che abbiamo un po' perso che non c'è più è difficile trovare qualcosa che appassiona davvero e in questo senso invece lo spazio davvero potrebbe un po' aiutare a ricordarci per così dire che non di solo pane vive l'uomo che non è necessario che a volte è una cosa appassionante che anche magari ci costa un po' che è inutile ma che però può veramente appassionarci e darci una prospettiva diversa un modo diverso di guardare la realtà farci di nuovo vedere anche il nostro mondo in un modo diverso perché vedere la terra dallo spazio è tutta un'altra cosa come l'abbiamo vista dalla luna era stata una cosa immaginiamo come potrebbe essere vedere la terra vista da Marte e prima ancora che la vedessimo dalla luna grazie alle missioni spaziali che ci sono state ricordiamo che c'è stato un bel episodio un bel filmetto breve diretto da Pasolini che si chiamava la terra vista dalla luna con Totò e Ninetto Davoli in cui lui già anticipa questo sovvertimento che ci sarà quando che ci sarebbe stato quando avessimo visto il nostro pianeta la luna ma volevo aggiungere una cosa che ho dimenticato colpevolmente di dire prima nell'esposizione principale chiamiamola così che il ritratto forse più permanente nella nostra memoria di Marte il Marte letterario per quanto fantastico insomma è quello che ci ha lasciato Ray Bradbury un grande scrittore scomparso da poco americano che nelle sue cronache marziane ha immaginato sì una possibile colonizzazione di Marte tra l'altro non in modo enfatico ma anzi già allora nel libro degli anni 50 già allora presagendo i guai a cui sarebbero andati incontro ma che avrebbero anche provocato i terrestri su Marte ma facendone uno specchio complessivo delle aspirazioni e delle fantasie dell'umanità in uno di questi racconti si immagina che in una delle cronache marziane che la popolazione nera degli Stati Uniti d'America si sia tutta trasferita su Marte perché basta di sopportare il racconto è stato scritto negli anni in cui ancora vigeva la segregazione razziale nel sud degli Stati Uniti eccetera e così via tuttavia che succede che un giorno questi neri che si sono emancipati da soli emigrando su Marte vedono arrivare di nuovo un'astronave dalla Terra con equipaggio bianco che chiede il permesso di non solo di atterrare ma una volta atterrato di far emigrare su Marte anche i non moltissimi ma comunque numerosi bianchi che sono scampati a una guerra nucleare che ha virtualmente distrutto la Terra allora i neri cosa devono fare una parte di loro esasperate dice no di nuovo i bianchi non se ne può più una parte però dice no noi non possiamo fare come hanno fatto loro e quindi si capisce che alla fine autorizzeranno questa convivenza sul nuovo Marte questo è un esempio ecco di racconto in cui la fantasia si scatena appunto il tutto è poco plausibile ma dal punto di vista fantastico è molto plausibile Marte comincia a risuonare di altre ecco in un altro episodio gli astronauti che vengono dalla Terra ritrovano su Marte pari pari le cittadine della loro infanzia ma purtroppo c'è un trucco sotto questo è impossibile infatti che su Marte abbiano fatto delle casette chiesette corral fattorie uguali a quelle del Midwest americano quindi cosa ci sarà sotto cose molto spiacevoli devo dire comunque ecco un'altra immagine di un Marte fantasmatico nel quale noi riversiamo proiettiamo le nostre ansie e paure ma anche i nostri ricordi più dolci per Bradbury erano sempre quelli dell'infanzia in un altro ancora viene descritto il progressivo ah viene descritta la scoperta per cui su Marte sopravviverebbero le principali fantasie della Terra quindi su Marte c'è un'ombra di Edgar Allan Poe c'è una casa Asher II fabbricata sia pure dall'ingegneria per farne rivivere i miti e gli incubi e così via questo Marte ripeto ha poco di scientifico ma ha molto molto di psicologico di culturale per catturare il nostro interesse anche oggi ecco se uno vuole avvicinarsi a Marte a un Marte che non è tanto schiaparelliano quanto è ariostesco non so se si può usare il termine l'aggettivo consiglierei una lettura subito delle cronache marziane per entrare in questo mondo vicino sì forse troppo vicino ma al tempo stesso arcano e comunque risuonante sempre di nostri motivi profondi in fondo l'esistenza umana che senso ha questo ce lo si è chiesto fin dalle origini dei tempi lasciamo stare che la risposta più sensata e anche più tranquillizzante tutto sommato non deve necessariamente avere un senso probabilmente non ce l'ha però le cose stanno così e nella loro accettazione sta la nostra eventuale capacità di sopravvivere anche la nostra grandezza ma alla fantasia non si può negare il tentativo generoso di trovarlo questo senso e uno potrebbe essere trovare finalmente ciò in cui possiamo specchiarci e comprenderci meglio come è appunto il Marte di Bradbury comunque sicuramente queste cose vedrete che torneranno anche nei prossimi incontri sia quelli più fantasy sia quelli più scienza adesso se c'è ancora qualcuno che vuole approfittare abbiamo ancora qualche minuto per fare qualche domanda direttamente a prego scusate sempre col microfono per favore parlate nel microfono per poter registrare le vostre preziosissime parole buonasera solo una curiosità dove quando nasce nella letteratura l'idea degli omini verdi la letteratura? l'idea degli omini verdi da Marte io però non ho capito gli omini verdi ah gli omini verdi proprio nel senso sì sì ma quello è un diciamo così la fantascienza è stata naturalmente satireggiata a vari livelli e uno di questi consisteva siccome spesso nei racconti si parlava di abitanti di altri pianeti non solo di Marte come di statura ridotta forse per reminiscenza degli ignomi delle fiabe così della tradizione allora si è inventata questa cosa degli omini verdi che oggi rivive per esempio in quelle rappresentazioni dell'alieno dell'extraterrestre con questi occhioni grandi magari allungati queste faccine un po' da emoticon potremmo dire con linguaggio di oggi poco credibili ma comunque insomma e quando nasce questa letteratura? non lo so io penso che nasca all'inizio del novecento quando si comincia veramente a moltiplicare la produzione di storie su abitanti di altri mondi eccetera però l'espressione omini verdi è veramente spregevole perché è poco fantasiosa cioè omino verde ci sarebbe uno schiaffone se incontrassi un omino verde insomma ma anche a chi lo dice gli omini verdi non sono niente sono come i piselli poco appetibili di una scatoletta appena aperta è quello insomma sicuramente non hanno niente in comune con quello che vedremo o troveremo o non troveremo perché magari non troveremo proprio niente prego passate il microfono per favore tanto spezzare una lancia a favore degli omini verdi nel senso che magari l'idea è nata dalla considerazione della possibilità di captare l'energia solare come le piante quindi nel senso poteva essere un modo per vivere esseri di clorofilla insomma sì esatto va bene deformazione alberto è un biologo per chi non la sapesse un biologo fisiologo vegetale no la mia domanda era invece quella che sorge diciamo di Marte intorno agli anni 80 immagino abbia una relazione con la missione Viking sì sì sicuramente tutte le volte che ci sono state le più importanti missioni spaziali della NASA eccetera questo ha avuto una ricaduta sicuramente sulla fantascienza che mentre prima era all'avanguardia sia pure così avventurosa della situazione poi si è trovata a rincorrere invece le ma le missioni spaziali Viking eccetera hanno stimolato alcuni scrittori a ritornare sul tema Marte in modo coerente con le ultime scoperte ma ugualmente esaltato ed eroico per esempio uno scrittore americano di quell'epoca piuttosto preparato scientificamente John Varley scrisse un racconto intitolato nella sala dei rei marziani proprio dopo che arrivarono le prime immagini Viking eccetera proprio per dire non è vero che questo deserto che ci viene mostrato nelle foto eccetera sia veramente un deserto perché sotto nelle caverne di Marte eschisse un bel racconto nostalgico che ricordo qua volentieri insomma quindi si c'è questo rapporto e anche il tentativo di recuperare all'immaginazione cose che ormai erano sotto gli occhi di tutti invece nella realtà Gianfranco buongiorno oggi qui rappresento una piccola associazione di amatori della rivista Urania che io cominciai a comperare nel 54 quando avevo 12 anni e Urania solo due la mia domanda è questa è legata al discorso dell'andare su Marte per risolvere questi problemi di sovrappopolazione eccetera eccetera ma non pensiamo non possiamo pensare a un automatismo evolutivo che a un certo punto faccia ridurre le nascite per esempio con una fertilità in diminuzione che come abbiamo avuto un'evoluzione potrebbe intervenire per risolvere il problema non è un argomento di fantascienza eccetera io la domanda la butto lì no no ma è invece interessante perché quello che tu vuoi dire è che a dispetto di tutte le difficoltà non potrebbe l'evoluzione darci una mano a superare questi gap certo questo è possibilissimo è in fondo quello che probabilmente è quello che si vede nel film di Kubrick 2001 di Siena e lo Spazio lì sembra di capire che più che l'evoluzione in senso astratto si tratti di un aiuto che ci viene da qualcuno che si annida nel cosmo però non fa molta differenza l'evoluzione potrebbe veramente fare sì che dall'umanità di oggi ancora limitata venga fuori invece un'umanità molto più dotata uno dei temi più sfruttati dalla fantascienza interplanetaria migliore è quello di uomini adattati a vivere su mondi alieni cioè non andiamo a terraformarli ma siamo noi che ci modifichiamo in modo tale e non solo con protesi ma anche naturalmente quindi geneticamente eccetera per poter vivere anche nei luoghi più proibitivi quindi anzi la domanda è molto opportuna perché questo sarebbe un nuovo balzo concettuale di quelli veramente degni di essere presi in considerazione da un'ottima fantascienza e non solo fantascienza ma anche da studi più approfonditi grazie Giuseppe grazie a te altri? se non c'è altro comunque direi che c'è già stato abbastanza ci sarà ancora di più nel prossimo futuro quindi ringraziando ancora innanzitutto i nostri relatori e tutti voi che siete venuti vi invito naturalmente a rivederci al prossimo incontro di scienza e fantascienza che appunto vi ricordo sarà 14 novembre alle 15 nell'aulamagna di via Ravasi sugli analoghi terrestri di Marte con la super patata marziana e la nostra mia grande amica Rosalba e sono convinto che dopo che l'avrete sentita la considerate anche una vostra amica perché oltre ad essere una grande scienziata è anche una delle persone più divertenti e simpatiche e coinvolgenti che abbia mai conosciuto quindi è veramente un entusiasmo travolgente che riesce a comunicare benissimo sarà un grande incontro e vi invito tutti a venire lì con i miei studenti ci vediamo mercoledì e poi il 24 andiamo a breve quindi rinnovo l'invito mercoledì a farmi avere l'elenco completo grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti